di italo calvino da marco valdo ovvero le stagioni in città un sabato di sole sabbia e sonno per i suoi reumi aveva detto il dottore della mutua quest'estate ci vogliono delle belle sabbiature e marco valdo un sabato pomeriggio esplorava le rive del fiume cercando un posto di rena asciutta e soleggiata ma dove c'era rena il fiume era tutto un gracchiare di catene arrugginite draghe e gru erano al lavoro macchine vecchie come dinosauri che scavavano dentro il fiume e rovesciavano enormi cucchiaiate di sabbia negli autocardi delle imprese edilizie fermi lì tra i salici la fila dei secchi delle draghe salivano diritti e scendevano capovolti e le gru sollevavano sul lungo collo un gozzo da pellicano stillante gocce della nera mota del fondo marco valdo si chinava a tastare la sabbia la schiacciava nella mano era umida una palta una fanghiglia anche là dove al sole si formava in superficie una crosta secca e friabile un centimetro sotto era ancora bagnata i bambini di marco valdo che il padre s'era portati dietro sperando di farli lavorare a ricoprirlo di sabbia non stavano più nella pelle dalla voglia di fare il bagno papà papà ci tuffiamo nuotiamo nel fiume siete matti c'è il cartello pericolosissimo bagnarsi si annega si va a fondo come pietre e spiegava che dove il fondo del fiume è scavato dalle draghe restano degli imbuti vuoti che risucchiano la corrente in mulinelli o vortici il mulinello facci vedere il mulinello per i bambini la parola suonava allegra non si vede ti prende per un piede mentre nuoti e ti trascina giù e quello perché non va giù cos'è un pesce no è un gatto morto spiegava marco valdo galleggia perché ha la pancia piena d'acqua il mulinello al gatto lo prende per la coda chiese michelino il pendio della riva erbosa a un certo punto s'allargava in uno spiazzo pianeggiante dove era alzato un gran setaccio due renaioli stavano setacciando un mucchio di sabbia a colpi di pala e sempre a colpi di pala la caricavano su di un barcone nero e basso una specie di chiatta che galleggiava lì legata ad un salice i due uomini barbuti lavoravano sotto il soleone con indosso cappello e giacca ma è tutta roba stracciata e muffita e pantaloni che finivano in brandelli sul ginocchio lasciando nudi gambe e piedi in quella arena rimasta ad asciugare giorni e giorni fine separata dalle scorie chiara come sabbia marina marco valdo riconobbe quel che ci voleva per lui ma l'aveva scoperta troppo tardi già la stavano ammucchiando su quel barcone per portarla via no non ancora i renaioli sistemato il carico diedero mano ad un fiasco di vino e dopo esserselo passato un paio di volte aver bevuto a garganella si sdraiarono all'ombra dei pioppi per lasciar passare l'ora più calda finché loro se ne stanno lì a dormire io potrò coricarmi nella loro rena e farle sabbiature pensò marco valdo e ai bambini sottovoce ordinò presto aiutatemi saltò sul barcone si tolse camicia pantaloni e scarpe e si cacciò sotto la sabbia copritemi con la pala disse ai figli no la testa no quella mi serve per respirare deve restare fuori tutto il resto per i bambini era come quando si fanno le costruzioni di sabbia ci giochiamo con le formine no un castello con i merli ma che ci viene bene un circuito per le biglie adesso andate via sbuffò marco valdo da sotto il suo sarcofago d'arena cioè prima mettetemi un cappello di carta sulla fronte e sugli occhi e poi saltate arriva e andate a giocare più lontano se noi renaioli si svegliano e mi cacciano possiamo farti navigare per il fiume tirando il barcone da riva con la fune propose filippetto e già aveva mezzo slegato l'ormeggio marco valdo immobilizzato torceva bocca e occhi per sgridarli se non ve ne andate subito e mi obbligate ad uscire di qui sotto vi bastono con la pala i ragazzi scapparono il sole dardeggiava la sabbia bruciava e marco valdo grondando sudore sotto il cappelluccio di carta provava nella sofferenza di stare lì immobile a cuocere il senso di soddisfazione che danno le cure faticose o le medicine sgradevoli quando si pensa più è cattiva più è segno che fa bene s'addormentò cullato dalla corrente leggera che un po tendeva un po rilassava l'ormeggio tendi e rilassa il nodo che prima filippetto aveva già mezzo slegato si sciolse del tutto e la chiatta carica di sabbia scese libera per il fiume era l'ora più calda del pomeriggio tutto dormiva l'uomo sepolto nella sabbia le pergole degli imbarcaderi i ponti deserti le case che spuntavano a persiane chiuse oltre le murate il fiume era immagra ma il barcone spinto dalla corrente evitava le secche di fanghiglia che affioravano ogni tanto o bastava una scossa leggera sul fondo a rimetterlo nel filo dell'acqua più profonda a una di queste scosse marco valdo aperse gli occhi vide il cielo carico di sole dove passavano le nuvole basse dell'estate come corrono pensò delle nuvole e dire che non c'è un filo di vento poi vide dei fili elettrici anche quelli correvano come le nuvole girò di lato lo sguardo quel tanto che glielo permetteva il quintale di sabbia che aveva addosso la riva destra era lontana verde e correva la sinistra era grigia lontana e in fuga anch'essa capì d'essere in mezzo al fiume in viaggio nessuno rispondeva era solo sepolto in un barcone di sabbia alla deriva senza remi né timone sapeva che avrebbe dovuto alzarsi cercare di approdare chiamare aiuto ma nello stesso tempo il pensiero che le sabbiature richiedevano una completa immobilità aveva il sopravvento lo faceva sentire impegnato a stare lì fermo più che poteva per non perdere attimi preziosi alla sua cura in quel momento vide il ponte e dalle statue e lampioni che adornavano le balaustre dall'ampiezza delle arcate che invadevano il cielo lo riconobbe non pensava ad essere arrivato tanto avanti e mentre entrava nell'opaca regione d'ombra che le volte proiettavano sotto di sé si ricordò della rapida un centinaio di metri dopo il ponte il letto del fiume aveva un salto il barcone sarebbe precipitato giù per la cascata ribaltandosi e lui sarebbe stato sommerso dalla sabbia dall'acqua dal barcone senza alcuna speranza ad uscir vivo ma ancora in quel momento il suo cruccio maggiore era i benefici effetti della sabbiatura che si sarebbero persi all'istante attese il crollo e avvenne ma fu un tonfo da sotto in su sull'orlo della rapida in quella stagione di magra si erano ammucchiati i banchi di fanghiglia qualcuno inverdito da esili cespi di canne e giunchi il barcone ci si incagliò con tutta la sua piatta carena facendo sobbalzare l'intero carico di sabbia e l'uomo sepolto dentro marcovaldo si trovò proiettato in aria come una catapulta e in quel momento vide il fiume sotto di lui ossia non lo vide affatto vide solo il brulichio di gente di cui il fiume era pieno di sabato pomeriggio una gran massa di bagnanti affollava quel tratto di fiume dove l'acqua bassa arrivava solo fino all'ombelico e i bambini vi sguazzavano a scolaresche intere e donne grasse e signori che facevano il morto e ragazze in bichini e bulli che facevano la lotta e materassini palloni salvagente pneumatici di auto barche a remi barche a pagaia barche a palo canotti di gomma canotti a motore canotti del servizio salvataggi iole delle società di canottieri pescatori col tremaglio pescatori con la lenza vecchie con l'ombrello signorine col cappello di paglia e cani 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 dai barboncini ai san bernardo così che non si vedeva neanche un centimetro d'acqua in tutto il fiume e marcovaldo volando era incerto se sarebbe caduto su un materassino di gomma o tra le braccia ad una giunonica matrona ma d'una cosa era certo che neppure una goccia d'acqua l'avrebbe sfiorato grazie a tutti grazie a tutti